Matteo Tornielli, direttore di LiveIn, non poteva sicuramente perdere Gusto Cortina anche quest'anno? Sicuramente no, la nostra rivista ha nel DNA lo spirito di questa manifestazione, cioè parlare del benessere, delle bellezze e del buon gusto. Tutte cose che qui si trovano, siamo in una cornice strepitosa a degustare delle bellezze italiane e delle bontà di questo territorio. Gusto Cortina da oggi fino a lunedì, degustazioni, distribuzioni di materiali e soprattutto godere di questo panorama. Vi aspettiamo tutti, grazie.